Musica L'inizio della polizia 10 reale all'alba ha sgominato una banda dedita ai furti in appartamento, misura cautelare per 8 persone. Musica Concluso alla regione l'iter progettuale per interventi di riqualificazione per le chiese San Michele, Madonna del Carmelo e i locali del commissariato di polizia, ora il decreto di finanziamento della regione. A Giare si inaugura il nuovo centro per disabili dell'Aias, giovedì l'inaugurazione, la struttura sostituisce la precedente. Musica Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione di TG Reporter, oltre al blitz della polizia di Acireale avremo una ricca pagina di cronaca nera e giudiziaria. Ad Aci Sant'Antonio invece questa sera ha prevista una nuova seduta di consiglio comunale che si preannuncia dei temi abbastanza caldi. Questo pomeriggio invece ad Acireale, così come domani due incontri promossi da Aifo a Cireale, dove si parlerà con la presenza dei responsabili nazionali dell'Associazione di povertà, guerre e anche dei casi di malati di lebra nel mondo. In apertura però la cronaca polizia di Acireale in azione questa mattina all'alba ha smantellata una banda dedita ai furti in appartamento. La misura cautelare è stata disposta dal GIP presso il Tribunale di Catania su richiesta della locale procura della Repubblica per otto persone. Tra i destinatari del provvedimento ha anche un noto commerciante proprietario di un negozio di elettronica e computeristica. Sentiamo. Alle prime ore di stamani agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Acireale hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di otto persone responsabili a vario titolo dei reati di associazione a delinquere finalizzata ai furti in appartamento e ricettazione di oggetti e beni provento dell'attività illecita. Sono stati reclusi in regime di custodia cautelare in carcere i pregiudicati Nunzio Gangi, 49 anni, Domenico Leonardi, 47 e Francesco Giuseppe Argentino, 44 anni, ritenuti gravemente indiziati dei delitti di associazione per delinquere finalizzata ai furti alla ricettazione. Sono stati invece posti agli arresti domiciliari i pregiudicati Camillo Leonardi, 48 anni, Salvatore Patanè, 57 e Sebastiano Cutuli, 31 anni, indiziati dei delitti di reato di furto aggravato in concorso e ricettazione, sottoposti all'obbligo in fine di dimora con divieto di allontanarsi dal territorio di residenza, Concetto Nicolosi, 49 anni, e il pregiudicato Antonino Mirenda, 53 anni, indiziati dei delitti di ricettazione di beni e oggetti provento della medesima attività illecita. La complessa e articolata attività di indagine è stata condotta dai poliziotti della sezione investigativa del commissariato di Acireale, che si sono serviti di tecnologie di intercettazione telefonica e ambientale, traendo spunto da una serie di furti registrati nell'autunno dello scorso anno in abitazioni del comprensorio Acese. L'attività investigativa ha permesso di ricostruire la struttura e le dinamiche di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti seriali in appartamenti. 13 in totale gli episodi addebitati alla banda, realizzati in appartamenti e ville, ubicate tra i comuni di Acireale, Aci Sant'Antonio, Trecastagni, Pedara, Nicolosi e Zafferana e Tennea. Si tratta di beni e oggetti di pregio, alcuni dei quali trafugati da abitazioni in costruzione e riciclati in altrettante strutture residenziali, alcune trovate nell'abitazione dell'indagato Sebastiano Cutuli. Sebbene gran parte della refurtiva sia stata riconsegnata ai legittimi proprietari, nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti beni per i quali non è stato possibile risalire alle vittime dei furti. Da qui l'appello del commissariato di Acireale, chi fosse rimasto vittima di furto in un'abitazione ricadente nel raggio d'azione del sodalizio criminale, può rivolgersi allo 095 765 3011, chiedendo della squadra investigativa per l'eventuale riconoscimento degli oggetti trafugati. Controllo da parte della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania durante il concerto di Claudio Baglioni, volto al contrasto della contraffazione dei marchi registrati. In occasione, come dicevamo poco fa, del concerto che si è tenuto al Palasport di Acireale, sono stati controllati quattro soggetti, tutti di origine napoletana, che nei pressi del palazzetto vendevano agli avventori sciarpe colorate che riproducevano il volto e il logo dell'artista. I finanzieri hanno accertato che gli articoli di merchandising non provenivano dalla casa produttrice ufficiale e che il logo riprodotto era stato falsificato ad arte per ingannare il consumatore. I quattro sono stati denunciati alla locale autorità giudiziaria per il reato di contraffazione e i prodotti illeciti commercializzati sono stati sottoposti a sequestro. Negli ultimi quattro mesi, 18, le persone che sono state denunciate a seguito dei controlli per reati connessi alla commercializzazione di materiale illegale. I carabinieri invece della stazione di Sant'Alfio hanno arrestato in flagranza il 27enne Domenico Stabile di Pedare in quanto ritenuto responsabile di evasione. Il giovane ieri mattina, eludendo la vigilanza del personale della struttura, è fuggito da una comunità terapeutica di Milo dove era relegato agli arresti domiciliari dal 25 ottobre scorso per aver commesso reati contro il patrimonio. I militari di pattuglia hanno rintracciato ed ammanettato dopo qualche ora il giovane mentre questi a piedi percorreva una via del centro di Zafferana. Un furioso incendio divampato questa mattina poco dopo le 6.30 al piano rialzato di un immobile in via Gramsci a riposto poco distante piazza San Pietro nell'abitazione di un'anziana donna ottantenne che vive da sola a prendere fuoco la camera da letto. L'anziana donna aiutata da alcuni vicini di casa è riuscita ad abbandonare in tempo l'appartamento. Sono stati vissuti attimi di grande concitazione da tutti gli inquilini del palazzo che temendo il peggio hanno abbandonato l'edificio raggiungendo la strada ed allertando i vigili del fuoco e carabinieri. Sul posto nel giro di pochi minuti sono intervenuti tre automezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di riposto del comando provinciale di Catania mentre i sanitari del 118 hanno soccorso la donna che seppur in buone condizioni era in stato di shock. I danni come poi è stato appurato dai vigili del fuoco si sono concentrati in particolar modo nella camera da letto. I vigili del fuoco infatti entrati nell'appartamento con gli autorespiratori hanno rimosso le parti pericolanti ispezionando a lungo l'alloggio danneggiato dal rogo. Adesso parliamo dell'inchiesta bingo a Giare. Sono ufficiali le motivazioni delle pesanti condanne inflitte in primo grado. I carabinieri di Giare avevano operato un maxi sequestro di marijuana, circa 20 kg smantellando un vasto traffico di droga nell'area ionico etnea. Adesso si conoscono le motivazioni sulle pesanti condanne inflitte lo scorso 30 aprile ai componenti del gruppo giardese. 16 anni, come si ricorderà, sono stati inflitti ad Alessandro Liotta, considerato l'organizzatore del gruppo 14 anni per Fabio Alfio Pagano, responsabile dei contatti con i clienti e coordinatore delle attività 9 anni e 4 mesi per Tiziano Russo e 7 anni e 2 mesi per Salvo Calì, addetti alla consegna Come evidenziato nelle motivazioni della sentenza i quattro avrebbero agito per un comune interesse legato al traffico di sostanze stupefacenti nessun dubbio dunque sulla sussistenza dell'associazione Per il GUP una frase inequivocabile sul coinvolgimento diretto dell'Iotta nella perdita dello stupefacente e sulla necessità di doversi armare per difendersi dalle ire dei fornitori creditori del prezzo ovvero, secondo altra interpretazione, scrive il GUP tra coloro che avrebbero dovuto iniziare a compiere rapine per racimolare la somma necessaria a saldare il debito A confermare le accuse, inoltre, furono anche le dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia Sarà giudicato con rito abbreviato fortunato di Giuseppe Taormina l'uomo di 57 anni di mascali accusato del tentato omicidio premeditato dell'ex moglie e dell'attuale compagno di quest'ultima entrambi lo scorso agosto vennero dapprima aggrediti verbalmente in pieno giorno a giardini Naxos e poi cosparsi di liquido infiammabile quindi dati alle fiamme dall'uomo si trattava dell'epilogo forse prevedibile delle continue vessazioni subite dalla donna dall'ex marito che non ha mai accettato la fine della relazione telefonate ossessive pedinamenti e molestie continue in un'occasione il 57enne avrebbe anche distrutto l'esercizio commerciale gestito dall'ex compagna minacciandola pesantemente l'imputato assistito dal difensore di fiducia Salve Paminonda era presente in aula l'ex moglie che ha riportato ustioni sul 60% del corpo sta ancora proseguendo le cure al centro grandi ustioni di Palermo il suo compagno invece ha riportato ustioni sul 30% del corpo entrambi si sono costituiti parte civile il prossimo 18 dicembre nuova udienza in programma le discussioni delle parti in quella stessa data potrebbe essere pronunciata la sentenza chiudiamo questa prima parte dedicata alla cronaca adesso qualche istante di pausa tra poco con la seconda parte Ottica Grasso presenta lo stile più cool del momento il tutto tondo in metallo celluloide Ottica Grasso le novità sulle collezioni vista sole dai brand più di tendenza concessionario ufficiale Cartier centro d'eccellenza Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi finiti a provare il nuovo Blue Control il trattamento che protegge i tuoi occhi dalle luci blu ad Acireale Concept Store in Corso Italia 122 ad Aci Catena in via matrice 34 Ottica Grasso la migliore visione sconti fino al 40% su tutte le montature vendita soggetta limitazione trova il rimedio naturale al centro antichi tesori della dottoressa Venera Caltabiano ora nel nuovo locale più ampio in Corso Savoia 1 Acireale la dottoressa Caltabiano nutrizionista da oltre 25 anni offre la sua professionalità con consulenze gratuite sull'alimentazione e diete personalizzate oggi vi offre la possibilità di scoprire attraverso il test del DNA problemi legati ad intolleranze alimentari stipsi, cefalee, gonfiori addominali stanchezza e ritenzione oltre a prevenire tante altre patologie centro antichi tesori vasto assortimento di prodotti fitoterapici erboristici, alimenti e dolci bio per chi soffre di dermatiti o allergie della pelle intimo e abbigliamento bio per i bambini giocattoli in legno e peluche bio Villa Grazia due strutture ricettive per anziani dove puoi scegliere di vivere serenamente e spensieratamente Villa Grazia è a disposizione di tutti quegli anziani autosufficienti e non che si trovano nella necessità temporanea o definitiva di poter mantenere la loro autonomia all'interno di un contesto di ospitalità con assistenza continuativa da parte di personale specializzato in grado di seguirli nello svolgimento della loro vita quotidiana Villa Grazia una grande esperienza maturata in tanti anni di attività e consolidata giorno per giorno a Santa Venerina via provinciale Linera per info 345 935 46 64 o 349 775 57 27 www.gruppovillagrazia.it Plaza Toast ti porta al cinema prova il menù Cine Toast che comprende un toast una bevanda analcolica e un biglietto d'ingresso per il margherita multisala da Plaza Toast si è sempre felici di andarci perché i toast sono dei mega toast doppio gusto preparati con prodotti selezionati pane bianco, pane integrale, pane vegano, pane alle noci 30 scelte tra cui lo sweet toast il toast dolce con creme nutella, cioccolato bianco, pistacchio burro di arachidi o confetture in più sfiziose insalate e nutrienti estratti energetici, disintossicanti o rinfrescanti e novità toast anche per celiaci Plaza Toast aperti a pranzo e a cena in piazza Garibaldi 1314 ad Acireale servizio a domicilio in tutta la città 345 816 20 22 la nostra moda? da OVS Kids ovviamente! da OVS Kids sono arrivati centinaia di nuovi capi con i colori e i modelli per l'autunno e inverno prova da OVS scopri le grandi promozioni e un assortimento ricchissimo dal corredo doppio zero ai 14 anni OVS Kids moda colore moda fantasia moda allegria per bambini e ragazzi a cui piace muoversi in libertà un grande assortimento nel quale sbizzarrirsi OVS Kids ad Aci Catena in via Vittorio Emanuele 1416 A posto? A posto! A posto! I professionisti dell'auto metti in sicurezza la tua auto controllandola dalla A alla Z da Service Car A Posto controllo elettrauto meccanico carrozzeria gommista centro revisioni affidati a noi per la prima volta ad Acireale una struttura completa per l'assistenza della tua auto A posto Service Car di Riolo via Salvatore Vigo 45 per info 095 60 42 69 scopri gli incentivi e le promozioni in atto a posto in tutta Italia in 1800 centri a posto Service Car di Riolo via Salvatore Vigo 45 A San Martino risate musica castagne e vino sabato 10 novembre in piazza Madonna della Pace ad Acireale San Martino castagne e vino durante la manifestazione sagra gastronomica prodotti tipici fiera del baratto mostra d'auto d'epoca alle 19.30 rassegna musicale con artisti vari di canto e danza ospite della serata da Sicilia Cabaret Loredana Scalia organizzazione a cura dell'associazione Città Domani seguici su Facebook Quasi tutto pronto ad Acireale per passare alla fase operativa riguardanti i lavori da svolgere in due chiese nel commissariato di polizia le opere previste sono già state finanziate vediamo opere pubbliche con vista alla fase prettamento operativa ad Acireale a conclusione di un iter avviato tre anni fa riguardante quindi l'appalto per ciò che concerne i progetti relativi alla riqualificazione delle chiese San Michele di Acireale Madonna del Carmelo che sorge nella popolosa frazione di Aciplatani e ancora per i locali che in Gorsumberto accolgono gli uffici del commissariato di polizia la chiesa San Michele da alcuni anni è inagibile per la presenza di infiltrazioni di umidità che hanno provocato sia all'interno che all'esterno del monumentale luogo sacro periodiche cadute di calcinacci le funzioni si svolgono perciò in un salone attivo adibito a chiesa 800.000 euro la somma disponibile per il recupero funzionale di questo edificio dalla particolare con formazioni stile classiche giante per la chiesa parrocchiale Maria Santissima del Carmelo di Aciplatani invece l'intervento prevede un contributo economico di 260.000 euro per la sistemazione pure di alcuni locali annessi dove si svolgono attività comunitarie infine attenzione per i locali del commissariato di polizia ospiti in un edificio di proprietà comunale dove assede pure il giudice di pace 790.000 euro l'importo disponibile tutti e tre i progetti sono stati esitati dalla regione che ora emetterà in tal modo i relativi degreti di finanziamento le tre opere rientrano nei fondi relativi al patto per il sud Adaci Sant'Antonio questa sera nuova seduta di consiglio comunale consiglio che inizierà alle 20 tra i punti che saranno posti al centro del dibattito la questione finanziaria nel corso della seduta dovranno essere approvate delle variazioni al bilancio di previsione dopodiché sarà dato spazio a chiarimenti e interrogazioni consigliari uno dei metodi questi più efficaci per dare voce alle esigenze dei cittadini andiamo ad Acireale da anni a fianco degli ultimi e dei malati di Lebra questo pomeriggio alla basilica di San Sebastiano il primo dei due incontri promossi da AIFO sezione Acireale forse non lo sai ma ogni due minuti nel mondo una persona come me e te si ammala di Lebra nasce nel 1961 da un gruppo di volontari lasciandosi trasportare dal messaggio di Raul Follerot in cui i giovani sono gli eredi del messaggio di amore e giustizia indipendentemente se credono o pensano di non credere l'AIFO Associazione Italiana Amici di Raul Follerot da 57 anni si occupa degli ultimi e dei loro diritti e dei malati di Lebra nel mondo sono tanti i progetti portati avanti nei relativi coordinamenti regionali così come ad Acireale che ha organizzato due incontri per il pomeriggio di oggi e domani in collaborazione con il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale l'Accademia Cese Organizzazione di Volontariato Basilica di San Sebastiano e le Parocchie San Salvatore e San Paolo proprio queste persone che vengono dal Direttivo Nazionale verranno proprio per cercare di illustrare tramite anche dei video sia alla Basilica di San Sebastiano sia alla Parocchia di San Paolo e i presidi ospedieri che abbiamo lì perché noi cerchiamo di aiutare gli ultimi i lebrosi proprio sul loro territorio che è la cosa secondo me più giusta però naturalmente loro hanno bisogno come sede nazionale e quindi abbiamo bisogno come sede anche comunale provinciale la sezione Cese Aifo nasce 40 anni fa per volere di Antonietta Strano a prendere le sue eredini nel 2013 Giuseppe Vicari con l'aiuto della sorella di Antonietta Camilla intenta a voler trasmettere ai giovani la voglia di aiutare il prossimo desideriamo che essa continui nella sua attività un'associazione a cui mia sorella ha dedicato la vita e vorremmo appunto incrementarne anche la vitalità l'efficienza attraverso una conoscenza sia dell'associazione e di una collaborazione con le altre associazioni della città in genere di Cereale questo è un po' un limite si lavora in modo limitato ognuno nel proprio orticello invece noi tentiamo un lavoro di squadra dove tutti possano sentire vicini e propri i progetti abbiamo tanti progetti speriamo che questa associazione possa avere maggiore incremento e soprattutto che ci siano delle persone sensibili che ci diano una mano perché abbiamo bisogno di giovani soprattutto adesso spazio azienda a seguire un'altra pausa e poi la terza parte del nostro telegiornale si chiama chic ed è veramente chic il nuovo negozio di regali inaugurato sabato sera nel centralissimo corso Sicilia di Acireale nasce dall'esperienza acquisita con Bombo Chic il negozio specializzato per le bomboniere e i piccoli regali Chic offre ai futuri sposi la possibilità di realizzare una lista nozze con tutto ciò che ci vuole per abbellire e completare praticamente il nuovo nido d'amore Chic articoli da regalo liste nozze complementi d'arredo Chic è in corso Sicilia 2931 Acireale per una casa Chic affidatevi a Chic il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6 le analisi vengono effettuate in sede il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale vicino la biblioteca Zelantea per info 095 60 48 83 a vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia di nuovo tutti a scuola di nuovo tutti al lavoro di nuovo tutti in gioco di nuovo per tutti tu marchio ottica e fotografia con una grande promozione per i nuovi occhiali acquistando un occhiale junior o teenagers da vista con lenti antiriflesso e se si vuole anche con il blu control una lente su due è in omaggio in più avrai un coupon sconto famiglia del valore di 55 euro per l'acquisto di un altro occhiale richiedi la OXO Family Card tua marchio ottica e fotografia è un negozio OXO ad Acireale in Corso Italia 18A e B offerta valida fino al 17 novembre 2018 il mese della prevenzione effetto il tuo test Fornace 41 il piacere di socializzare tra un drink e un bicchiere di vino ti incontri ti diverti socializzi e trascorri piacevoli momenti di relax Fornace 41 drink wine bar sweet and soul musica eventi cortesia e tanto altro ancora in un'atmosfera unica riservata ed elegante Fornace 41 il social bar ad Aci Castello in via Fornace 41 fai un drink speciale metteci un pizzico di tè e tutto il mondo da scoprire da Fornace 41 signor Canetta siamo a casa nuova si svegliono Matt 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 che fu che è successo qui è aiuto Piii io chiede mi montassero già tutto così e io pensavo che stavo sognando ma questa è realtà questa è magnificenza ti montano e ti smontano che manco ti raccogli è un sogno la Sicilia traslochi smontiamo rimontiamo imballiamo trasportiamo modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi viaggi settimanali da e per il nord copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai macelleria cannavò tradizione di qualità i nostri animali sono siciliani perché nascono e crescono nella nostra terra dove vengono allevati all'aperto con tanta cura e con alimenti naturali macelleria cannavò fa parte del consorzio carni di Sicilia scelgo la qualità per la mia famiglia il consorzio carni di Sicilia valorizza la tipicità e qualità della carne bovina siciliana certificandone la provenienza attraverso l'etichettatura volontaria macelleria cannavò gusto e qualità sulla tua tavola con specialità pronto cuoci che se vuoi puoi gustare anche nel nostro ristorante macelleria cannavò viale regina margherita 1820 acireale carne a sicilianità garantita opel carlo rox il mini sub da città opel carlo rox a riposto da g da auto point presso centro commerciale con forama guarda amore il mini sub da città opel carlox questa voglio amore ti piace la nostra nuova macchina mamma è bellissima la nostra opel carlox g da auto concessionaria opel a catania in via brancati 25 45 e a riposto g da auto point presso centro commerciale con forama è arrivata, è arrivata, è arrivata, menzolata già lavata bella fresca? bella fresca e non sana vera e dai sulla riviera ionica coltiviamo le nostre verdure genuine già pulite e pronte da gustare ci piace bella fresca l'insalata siciliana a chilometri zero ben ritrovati sarà inaugurato giovedì il nuovo centro per disabili dell'Aias la struttura andrà a sostituire l'attuale sede dell'ambulatorio per la riabilitazione costituisce un esempio di edilizia ecologica giovedì pomeriggio a Giarre la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo centro di riabilitazione per disabili dell'Aias sezione di Acireale la nuova struttura è stata realizzata dall'Aias di Acireale per sostituire l'attuale sede dell'ambulatorio di via Regina Pacis che dal 1974 ha dato via ad un centro riabilitativo dove si effettuano prestazioni ambulatoriali con potenzialità per 76 persone con disabilità la nuova struttura di via Luigi Orlando ha una superficie di 700 metri quadri è disposta su un unico piano e oltre ad essere un esempio di edilizia ecologica garantirà elevati comfort e assistenza il taglio del nastro e la benedizione che verrà impartita dal vescovo della diocesi accese Monsignore Antonino Raspanti rappresentano un momento importante molto atteso per i disabili della città e per i loro familiari Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno tra gli altri il presidente della sezione Aias di Acireale Armando Sorbello il presidente d'onore dell'Aias nazionale Ingegnera Francesco Lotrovato il sindaco di Giarre Angelo Danna e le autorità civili e militari Adesso allo sport parliamo di calcio della Cileale giunge un grido la curva nord va riaperta lo scorso 2 novembre 2018 la società città di Acireale 1946 ha ricevuto dal comune di Acireale una nota in virtù della quale è stato comunicato alla prefettura di Catania il parere favorevole all'ampliamento della capienza dello stadio Tupparello con l'integrazione del settore H denominato curva nord con estrema solerzia a distanza di poche ore al fine di ottenere l'ampliamento della licenza prima della partita contro il Bari la società ha richiesto alla questura il detto ampliamento della licenza per poi attendere che nel pomeriggio la commissione provinciale per i pubblici spettacoli eseguisse il necessario sopralluogo così da esprimere parere positivo sul settore ma così non è stato solo dopo alcune ore di attesa si è appreso che la commissione non avrebbe eseguito alcun sopralluogo perché con l'esame documentale aveva imposto l'esecuzione di prescrizioni indispensabili per l'apertura preso atto comunque dell'interessamento dell'assessorato allo sport di arrivare nel più breve tempo possibile alla soluzione auspicata e cioè l'apertura del settore la società invita ora l'amministrazione ad attivare un tavolo tecnico permanente per lo stadio Tuparello al fine di arrivare in tempi rapidi alla riapertura della curva nord poiché la tifoseria organizzata che adesso è provvisoriamente in tribuna laterale ha il sacrosanto diritto di avere un proprio settore e di non essere penalizzata al riguardo e a tal proposito parliamo del match di domenica scorsa al Tuparello a Cileale Bari che ha registrato circa 2000 spettatori pubblico da altre categorie il presidente Cannavo e il DG Fasone si dicono soddisfatti della risposta data dagli sportivi e dalla città ma nel dopogara non è passata inosservata la sfuriata del presidente nei confronti della squadra sconfitta sì da una corazzata ma pur sempre in doppia inferiorità numerica sentiamo non è che si poteva fare di più questa squadra deve fare di più e noi facciamo tanti sacrifici oggi la città ha risposto alla grande siamo veramente in clima di altra serie rispetto alla serie D e abbiamo fatto un bel lavoro tutti io non giustifico nessuno a prescindere dalla questione del rigore che sono infortuni che possono capitare a tutti ma prendere tutti questi gol tutti nello stesso modo credo che qualche riflessione vada fatta perché oggi potevamo tranquillamente fare altro tipo di risultato altro tipo di partita e sicuramente lasciare ancora più contenti i nostri tifosi che comunque sono andati contenti però lo spirito di solidarietà di aggregazione che noi stiamo facendo deve essere supportato da prestazioni importanti e soprattutto di assoluta linearità noi abbiamo visto delle cose che purtroppo io sono un tifoso magari non sono un decano, sto sbagliando la valutazione, mi scuso però io ringrazio tutti coloro che giornalmente si stanno impegnando per questa causa della cereale però credo che non possiamo lasciare punti così per strada chi si fa effellere, chi non si fa effellere noi abbiamo la necessità di essere tutti combatti la necessità di lavorare tutti per un unico obiettivo noi rispettiamo gli impegni ma tutti adesso devono essere col coltello fra i denti perché noi dove andiamo andiamo io voglio giocarmi la partita a prescindere che si chiama Bari, Rocella, Cittanova più che dire quasi quasi ha vinto il Bari dico ha perso la Cireale forse prima della partita potevamo aspettarci dico qualsiasi cosa ma per come è andata la partita vedendo le possibilità che la Cireale ha avuto prendere i gol in quel modo effettivamente per quelle che sono le dinamiche della partita ci resta un po' male dal calcio al pattinaggio successo per la Cese Riccardo Trovato che ha ottenuto un buon piazzamento in classifica ai campionati interregionali Lombardia-Piemonte 2018 specialità short track che si è disputato a Bergamo lo scorso 14 ottobre insieme al fratello Alessandro oltre a continuare nel pattinaggio per la società Accademia Rotellistica Cireale da settembre fanno parte della società Sport Evolution Skating di Bergamo allenati da Stelio Conte e dall'ex atleta olimpico Diego Cattaneo per intraprendere infatti questa nuova avventura i due fratelli si sono trasferiti in Lombardia nella gara di Bergamo esordio di Riccardo che ha ottenuto un secondo posto nella 500 metri quarto e quinto posto invece nelle due 777 metri e quarto posto nella combinata delle tre gare nei prossimi mesi toccherà al fratello Alessandro intanto in questo weekend i due atleti accesi saranno impegnati ad Imola nelle gare di pattinaggio insieme al loro allenatore Angelo Trovato e adesso invece diamo uno sguardo alle previsioni meteo sereno poco nuvoloso le temperature subiranno un lieve calo nei valori minimi fermandosi sui 15 gradi mentre stabili saranno le massime che si fermeranno sui 23 gradi venti deboli, mari poco mossi ed è tutto per questa edizione l'appuntamento con la nostra informazione ritorna domani alle 13.40 grazie per essere stati con noi grazie per aver guardato il video